Vogliamo parlare delle prove invalsi. Quando io introduco questo argomento dico che c'è un po' di difficoltà, di sofferenza e uso un po' una specie di racconto metaforico. È come se il nostro medico di base ci chiamasse e dicesse che l'ASLA ha deciso di controllare gratuitamente il colesterolo e il glicemia a tutti i mutuati. Questa cosa ci infastidisce. Quasi tutti non siamo atleti, non siamo maratonetti. Ecco, come si fa a superare questo atteggiamento negativo di fidenza? Con la conoscenza, fino ad arrivare a, paradossalmente, ad amare un controllo di questo tipo che ci aiuta a vivere bene. E quindi, in qualche modo, dovendo parlare dell'invalsi, parleremo di questi quesiti, proveremo a leggerli, a vedere che cosa c'è dietro, a vedere il portato disciplinare che contengono e come possono veramente aiutarci nel nostro insegnamento, nella nostra didattica della matematica.